Serata di paura martedì a Eraclea in provincia di Venezia, quando un vagone del trenino turistico con 14 persone a bordo, tra le quali molti bambini, si è capovolto. La maggior parte dei passeggeri è rimasta ferita. Sul posto sono giunte numerose ambulanze, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il sindaco della cittadina balneare. I pompieri arrivati da San Donà hanno collaborato con il personale del 118 per dare subito soccorso e hanno contribuito a trasferire le persone coinvolte che dovevano essere curate e controllate al pronto soccorso e sui mezzi a disposizione per l'assistenza sanitaria. Molteplici le ambulanze sul posto. L'incidente si è verificato in via Livenzual nei pressi di una curva, tra le ipotesi quella che possa aver battuto contro lo spigolo di un tombino, ma naturalmente le cause dovranno essere ricostruite.